Salve amici siamo giocatori per caso facciamo la sfida abbatti un pino legnoso con un veicolo e vedrete che ci mettiamo veramente poco ma iscrivetevi al nostro canale per non perdere le nostre avventure I pini legnosi ce ne sono un po' ovunque principalmente sono nella zona bianca dove c'è la neve noi ad esempio adesso andremo qua qui tra l'altro c'è un bel benzinaio in cui trovare un veicolo quindi non c'è nient'altro da chiedere di meglio andiamo subito qui questo è il benzinaio di cui avete visto un attimo fa guardate qua sulla sinistra lo vedete quest'albero un bel pino legnoso lo riconoscete perché tutta la parte in basso è spelacchiata e i rami ci sono solo in alto allora atterrate prendete subito questo e vi schiantate contro e vediamo se riusciamo a farlo al primo colpo no da questo lato non riusciamo allora proviamo dall'altro lato andiamo un po' più in alto e veniamo giù sparati qua probabilmente per via della salita l'abbiamo usato come trampolino e ci siamo capottati adesso andiamo giù e vediamo se riusciamo a sfasciarlo semplicemente così si è rotto avete visto? bene la sfida è già finita qui senza starli a perdere altro tempo poco più avanti però ho visto che ci sono degli altri pini legnosi guardate qua c'è un altro quindi sfasciamo anche questo tutto per farvi vedere quanto è facile sfasciare con un veicolo lì sotto c'è un altro vediamo se con questa poca rincorsa riusciamo comunque a romperlo si si è rotto ne avevo rotti tre in un attimo anche questo incarico è finito spero di esservi stato utile al prossimo se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche non l'abbiamo iscriviti al nostro canale non l'abbiamo non l'abbiamo Grazie a tutti.